questo è qui al secondo video lì c'è qualcuno che io vedo com'è? mettila 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 facciamo cantare a lui è fai male non lo guardare mettele metti l'audio eccola metti la più vicina metti la più vicina solo lui devi cantare solo lui devi cantare ma io andrei come dicevo questo video è popo da youtube non youtube vogliamo non vogliamo ma vogliamo questo youtube minimo Frank li vincula di Roma